Torniamo adesso un'altra ragazza, Stefania Correnti, la accompagniamo con un bel applauso. Stefania è un'altra giovane ragazza dell'Accademia, lei suona il clarinetto e ci farà ascoltare danza su studio ungherese Minuetto e per quest'ultima, la seconda che ho detto, sarà accompagnata da Chiara Scalisi, mentre lei abitualmente studia col docente di clarinetto Antonino Anselmo. Stefania Correnti al clarinetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.